giovedì 17 novembre buongiorno a tutti ben ritrovati a questo appunto a vetro la rassegna stampa del mattino su fano tv canale 17 come sempre l'informazione cominciamo a mattino presto cominciamo con i giornali giornali che troverete in edicola come sempre in versione cartacea noi abbiamo il touchscreen dove abbiamo caricato le pagine del corriere adriatico del resto del carlino prima però guardiamo le pagine storiche del calendario con i santi che ci hanno preceduti e che hanno vissuto su questa terra come santa elisabetta d'ungheria che oggi la chiesa cattolica ricorda il sole sorto alle 7 05 tramonterà le 16 41 allora andiamo a leggere subito andiamo a vedere subito le previsioni del tempo per la giornata di oggi siamo sul sito della protezione civile delle marche che ha una sezione tra l'altro il sito è rinnovato questo dico per chi volesse andare a vedere anche il sito della protezione civile della regione marche il sito dicevo è aggiornato e queste sono comunque le previsioni del tempo elaborate dagli esperti della regione allora oggi avremo un cielo poco nuvoloso con aumento della nuvolosità nel pomeriggio sempre dal pomeriggio avremo anche deboli e sparse precipitazioni più insistenti nelle zone dell'entroterra le temperature sono in aumento in particolare nei valori massimi i venti sono di brezza tesa sud occidentale all'interno sud orientali lungo la costa moderati invece dalle ore centrali per domani venerdì 18 di novembre avremo cielo nuvoloso sempre nell'entroterra con un'alternanza di annuvolamenti più insistenti e locali schierite altrove per un transito di nuvole orografiche deboli sparse precipitazioni in particolare nel pomeriggio di domani con fenomeni maggiori nelle zone della montana in particolare quelle esposte ad ovest vedete siamo sulla parte del monte feltro nel centro della regione marche i venti sono di brezza tesa le temperature in aumento per sabato il tempo non è un granché ancora pioggia sparsa un po carattere di rovescio in esaurimento nel pomeriggio le temperature sabato saranno in aumento nei valori minimi senza variazioni invece nelle quelle massime i venti sono di brezza tesa sud occidentale a tratti moderati nelle zone dell'entroterra con raffiche fino a vento teso quindi vento forte soltanto nell'entroterra la situazione poi migliorerà tempo tempo con flussi flussi sud occidentali con conseguente tempo variabile insomma questa è un po la situazione magari con un linguaggio un po più semplice riuscirebbero a leggerlo e a capire anche quelli come noi che sono profani le ultimissime le ultimissime della notte perché noi siamo sempre sul pezzo come si suol dire allora guardate questa fotografia arriva dalla dalla e 78 siamo nel tratto siamo nel tratto di tra lucrezia e bellocchi in corsia vedete c'è un spostamento di carreggiata perché stanno rifacendo l'asfalto non so perché ma ogni paio d'anni in questo tratto fanno rifanno l'asfalto poi non si capisce come va invece il tratto di urbagna di scusate di acqua lagna dopo il furlo che è devastato adesso qualcosina stanno rifacendo ma quel tratto lì è veramente devastato qui stanno anni 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 senza rifarlo qui ogni due anni anche se secondo me poi non sono un esperto ripeto ma pare che non ci sia bisogno invece lo rifanno e quindi adesso rifanno il manto stradale però vedete qui evidentemente siccome c'è uno scambio di carreggiata vedete sulla corsia nord quella che va verso roma si viaggia a doppio senso di marcia mentre su quella sud verso fano è chiusa questo signore evidentemente si è accorto l'ultimo minuto che c'era questo cambio di corsia distratto forse un po preso no non si sa è salito è salito sopra al guardrail lo vediamo anche da questa immagine un po più larga gli operai eccetera eccetera ecco questa è la situazione quindi se prendete la superstrada sappiate che tra lucrezia e bellocchi comunque c'è il doppio senso da una parte e i lavori dall'altra quindi c'è uno scambio di carreggiata se dall'introterra venite verso fano cominciamo adesso a leggere invece i giornali adesso faccio soltanto un'operazione tecnica veloce sperando di ecco farla in poco tempo ok devo aumentare il giallo l'evidenziatore ecco qua allora cominciamo subito a leggere i giornali la fotonotizia sul resto del carino è per l'assemblea di area vasta che si terrà porte chiuse sabato dove si discuterà e forse si deciderà su dove costruire questo benedetto famoso ospedale unico muraglia è in pole position ma può succedere veramente di tutto e il titolo è i segreti dei sindaci poi lo vedremo la tragedia invece di libero caldari è sotto la testata del resto del carlino il gioielliere sempre elegantissimo aveva 69 anni con la sua pistola a fianco è stato trovato morto nella sua gioielleria in centro a pesaro lo sconcerto della città se n'è andato dicono un signore e ripartiamo allora da da qui da questa tragedia la morte del gioielliere ripresa dalle telecamere di sorveglianza all'interno del del negozio il noto imprenditore il noto negoziante aveva in mano la sua pistola l'incertezza prima della fine trovato esanime ieri mattina dal figlio e dalla moglie non ci sono dubbi sulla dinamica forse una diagnosi medica in fausta avuta di recente ma non è stato trovato nessun biglietto l'uomo era da solo in negozio e ha deciso di farla finita intorno alle 8 e 45 l'arma usata è una pistola tamburo il colpo non sarebbe stato sentito però da nessuno caldari era seduto sulla scrivania a destra subito dopo l'ingresso non poteva dedicarsi a noi come prima questo l'ha distrutto il ricordo della figlia maria teresa che dice ci ha amato sopra ogni altra cosa e noi per lui eravamo la sua vita davide paso invece persona di gran finezza la città ha perso un commerciante storico su questo argomento andiamo adesso anche sul sul corriere adriatico che chiaramente ha un anche in richiamo in prima in prima pagina la pagina di pesaro eccola qua del corriere adriatico libero caldari si sparano alla sua gelielleria il gesto del commerciante sconvolge la città lo ha trovato la moglie ormai privo di vita conosciutissimo la notizia della morte ha scioccato tutti eccolo qua libero caldari 70 anni a gennaio era noto anche per l'eleganza e modi impeccabili e gentili vedete il la sua gioielleria qui all'ingresso del corso della città di pesaro l'uscita della sua gioielleria con i carabinieri e poi il 118 protagonista della pesaro del bello del boom gli anni fiorenti spazzati dalla crisi il cordoglio dei colleghi questa dunque le queste le pagine che riguardano questa tragica notizia che arriva appunto da pesaro torniamo sul resto del carino quella di fano fusione aset aset spa e aset holding la maggioranza tira dritto ma spunta un parere dello studio ferla che esprime criticità su questa fusione ieri sera intanto c'è stato il parere positivo la sala ipogea della memo dove si sono riuniti i componenti del consiglio del consiglio comunale severi della lista civica noi città dice ci sono tre opinioni chi dobbiamo ascoltare noi rimaniamo nel dubbio sulla chiusura di via cavur vista la piazza costanzi qui nella fotografia del carlino la chiusura del traffico secondo conf commercio del traffico automobilistico in via cavur non è prioritaria e poi andiamo sull'altra pagina del resto del carlino siamo sul pagina di fano trovato un ordigno aereo della seconda guerra mondiale vicino a casa le campagne fanesi ormai sono come una polveriera un altro ordigno bellico in esploso è stato ritrovato questa volta a ronco sambaccio sull'area del corridore invece dove prima c'era il distributore dell'agip interviene questa mattina alberto berardi non bisogna ripetere gli errori del passato dice lo storico non dobbiamo ripetere l'orrore fatto quasi 70 anni fa già replicato 30 anni dopo anche lo storico berardi interviene nel dibattito che si è aperto in città sulla destinazione d'uso dell'area attigua alla scuola elementare corridoni quel triangolo di terreno che appunto adesso è in stato di abbandono da oltre da oltre un anno dove prima c'era il distributore a marchio agip troppi gesti da politica spettacolo gambini il presidente di area vasta convoca la riunione però dei sindaci a porte chiuse ceriscioli parlerà sulle aree interne l'algoritmo sull'algoritmo risposta scusate respinta la mossa di massimo seri che aveva chiesto di inserire all'ordine del giorno al punto 1 1a questa di togliere appunto questa quest'algoritmo di decidere senza tenerne conto quindi come dire troviamo una soluzione noi con il nostro cervello con la nostra il nostro la nostra politica senza utilizzare l'algoritmo ciascun sindaco potrà singolarmente decidere di diffondere le registrazioni dell'assemblea di area vasta questo per evitare la segretezza oppure no insomma adesso vedremo poi qualcuno chiaramente e sicuramente lo farà e dunque verremo a sapere che cosa si diranno sabato mattina in questa riunione che dovrebbe essere la riunione definitiva andiamo sull'altra pagina del resto del carlino velocemente censimento edifici a rischio siamo a mondavio bocciata la nostra mozione l'attacco dei 5 stelle alla giunta berluti amati sul sisma per l'amministrazione si tratta di un intervento da fare in futuro ma i pericoli così sono ignoranti mentre a orciano gasparini esulta comune unico siamo alla svolta e adesso apriamo invece il corriere adriatico il corriere adriatico che in prima pagina come dicevamo mette il titolo di cronaca sul suicidio del negoziante a pesero e poi la fotonotizia business dell'accoglienza giro d'affari da 9 milioni integrazione dossier dell'opposizione il comune replica la regione resta al palo passa una legge al mese l'opposizione inesistente l'attività del consiglio inesistente dice l'opposizione l'attività del consiglio mastro vincenzo sempre meno fondi dallo stato quindi è inutile regiferare tanto poi migranti un giro da 9 milioni dicevamo questa è la pesero primo piano dati cifre volumi d'affare la gestione dei profughi nel mirino dell'opposizione con un'integrazione dossier roberta crescentini di siamo pesero attacca l'ultimo bando replicano comune labirinto che dicono qui è tutto regolare poi sulla sulla pagina che riguarda la sanità fano salvate il santa croce mozione dell'opposizione approvata all'unanimità se richiede di superare il ricorso all'algoritmo ma come abbiamo visto probabilmente salta tutto in lutto i 5 stelle per la morte del presidio cioè del santa croce minardi isolato su fosso sei ore contro anche la serra e luzzi questa è la pagina 5 del corriere ma ce n'è un'altra che riguarda sempre la sanità procedura illegittima i sindaci la blocchino gruppo zero contesta il metodo della riforma sanitaria l'associazione paventa gravi conseguenze per le scelte in itinere iter da riavviare e baldelli baldelli sindaco di pergola colpo di mano non visti dai cittadini baldelli attacca il pd per la strategia a favore del sito di muraglia e poi ancora le altre pagine torna da urbino torna alla festa del duca d'inverno ma a natale un presepe protagonista provincia e proloco presentano il calendario delle manifestazioni del territorio ricco cartellone di eventi tra mercatini e spettacoli la pagina di fano invece la scoperta del bello comincia dalla scuola visite del fai al patrimonio storico gli studenti accompagnano i coetane in questa bella immagine palazzo bracci nel cuore del centro storico tutto illuminato sul far della sera da lunedì 28 novembre serie di appuntamenti a palazzo bracci sulla fusione aset la protesta di severi riccardo severi io dico io non ci sto il capogruppo di noi città tira fuori un altro parere legale a favore della holding la pedonalizzazione della discordia l'altra pagina di fano del corriere la conf commercio lamenta la mancata partecipazione al progetto di nuovo redurbano di via cavur ma il vero dissidio è sulla chiusura alle auto il parcheggio nell'area nell'ex area agip può costituire il compromesso mezzotero rivendica il coinvolgimento dei negozianti che sono favoriti dai posti auto il riscatto del terremoto può partire dal codma a sapori e aromi d'autunno anche due ditte di arcuata del tronto saranno raccolti fondi per il comune colpito dal terremoto una mostra sulle ferite del sisma la proloco ospite lancia la sagra marrone che passione questa è l'altra pagina del corriere adriatico e dalla valle del cesano invece anche qui grande carico di solidarietà con pasta acqua e coperte consegnato ai terremotati di viso il materiale raccolto a marotta e a mondolfo strade asfaltate a costo zero siamo a san lorenzo in campo grazie al nuovo regolamento ha provveduto marche multiservizi dopo il rifacimento degli impianti e poi ancora dal corriere adriatico questa volta le pagine di senigallia spa e un albergo extra lusso al posto di edifici degradati una cordata di imprenditori esini vuole acquistare lo ex yacht e l'hotel marche dove appunto costruirci questo questa spa e questo nuovo albergo extra lusso solo l'acquisto vale 7 milioni poi ci sono da valutare i costi della ristrutturazione naturalmente però insomma la senigallia che continua a macinare e a diventare sempre più città turistica natale senza trenino e giochi per bambini si stanno definendo le linee del programma tra il comune e le associazioni di categoria e poi l'ultima pagina sempre del corriere adriatico scusate andiamo su quest'altra sempre da senigallia un'auto piomba in un parcheggio e danneggia due macchine il conducente è fuggito poi nella notte i carabinieri indagano per identificarlo è successo nella notte tra martedì e mercoledì in via sesta strada a pochi metri dal lungomare di senigallia questa era la rassegna stampa di occhio ai giornali noi ci ritroveremo questa sera alle 20 e 30 con occhio alla notizia a cui seguirà subito dopo in diretta Missione Salute questa sera si parlerà con il primario di ematologia dell'ospedale di Muraglia un appuntamento da non perdere se volete come sempre potete chiamare il nostro numero fisso 0721 86 14 33 e fare le vostre domande in diretta io mi fermo qui grazie per averci seguito buona giornata a tutti a tutti